Ripellare la batteria, andare a cambiare tutte le pelli della nostra batteria è una cosa bellissima perché sicuramente dopo che le avremo cambiate tutte suonerà il doppio di cosa suonava prima suonerà molto 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 meglio. Il problema però è che andare a cambiare tutte le pelli è sempre una roba... Ammettete che anche voi non avete mai voglia di cambiare tutte le pelli finché si tratta di una pelle una pelle della rullante eccetera tutto a posto ma quando si tratta di cambiarle tutte lì è veramente un problema non ne abbiamo mai voglia e procrastiniamo sempre cioè almeno io faccio così quindi oggi voglio farvi vedere un metodo per farlo molto molto più molto più velocemente cioè soprattutto andare a togliere molto più velocemente tutte le pelli della nostra batteria per poterli andare a posizionare subito quelle nuove quindi la prima cosa che serve sono queste delle pelli nuovissime che qualsiasi tipo di pelle non serve una pelle particolare tranquilli qualsiasi pelle si può usare perché noi andremo ad agire sulle viti della batteria e come andremo ad agire sulle viti della batteria utilizzando questo qua un trapano o qualsiasi trapano di qualsiasi tipo non ce ne frega niente potente non potente è uguale basta che ha viti e sviti oltre questo però ovviamente non ci basta il trapano da solo ma abbiamo bisogno di questa questa è semplicemente una specie di chiavetta diciamo della Gibraltar che è apposta per il trapano cioè se voi andate a vedere di qua abbiamo la solita vite che sembra una brugola tipo che si infila all'interno del nostro trapano mentre dall'altra parte abbiamo invece la chiavetta quella proprio da batteria quella quadrata in questo modo noi andremo ad infilare questa all'interno del trapano e poi col trapano sviteremo tutte quante le nostre viti della batteria eccetera eccetera altro con questo direi che possiamo andare direttamente alla batteria ve lo faccio vedere veramente in due minuti sarà una pillola veloce questo video e poi basta poi è finito il video e ve l'ho detto che è una pillola oggi un video in più è una pillola solitamente quando andiamo a cambiare tutta la nostra batteria quando andiamo a cambiare tutte le pelli abbiamo sempre questo problema di metterci tanto soprattutto perché lo facciamo sempre con la chiavetta prendiamo la chiavetta solita qualsiasi chiavetta tanto poi alla fine sono tutto uguali e ci mettiamo lì a svitare una per una tutte le viti della batteria però il fatto è come vi dicevo farlo per una è un conto fare per tutti i tamburi questa cosa e magari anche per la cassa diventa molto 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 più una rottura di scatole non complicato non è difficile però ci mettiamo un po di tempo facendolo con questo ci mettiamo veramente niente perché noi basta che impostiamo il trapano sullo svitare e poi noi possiamo direttamente andare a svitare le nostre viti dal tamburo vi ricordo raga che io vi consiglio di usare questa cosa solo per svitare le viti non andate anche ad avvitare le viti con il trapano perché ovviamente lì poi andiamo veramente ad accordare già la batteria nel momento in cui andiamo ad avvitare le viti quindi volendo potete avvitarle con questo per quanto riguarda la prima parte in cui magari la vita ancora non fa tensione sul tamburo e quindi non rischiamo di rovinare niente però nel momento in cui cominciamo veramente a tirare la pelle fatelo con una chiavetta anzi meglio se ce l'avete con due chiavette mi raccomando il trapano non usatelo per avvitare le pelli e quindi per accordare la batteria mi raccomando ragazzi mi fido di voi quindi adesso andiamo ad avvitare quindi a togliere le pelli che devo togliere cioè quella di timpano timpano e tom queste tre pelli qua per adesso rullante e cassa le lascio ancora ma comunque quello stesso procedimento si può fare anche con rullante e cassa si può fare con qualsiasi cosa sia pelli battenti risonanti quello che volete quindi vado a svitarle vediamo quando ci mettiamo intanto faccio partire un cronometro e poi vado una allora questo tom qui vi giuro che l'ho finito ragazzi solo che se gli tolgo la pelle cade perché ha un sistema di montaggio che quando toglie la pelle devi tenerlo quindi fidatevi di me a quanto ci ho messo due minuti e 22 23 24 pensate quando ci avreste messo invece se l'aveste fatto con la chiavetta con questo il video finisce qui spero che questo video molto veloce questo video in cui vi facevo vedere una cosa un pochettino diversa per non parlare sempre di suonare di come fare il paradido almeno oggi io ho fatto vedere una cosa un po diversa spero che vi sia stato utile spero abbiate anche voi un qualsiasi tipo di come si chiama trapano per poter di comprare questa chiavetta qua che costa pochissimo e poter andare a svitare le viti della vostra batteria in modo veramente velocissimo raga mi raccomando occhio quando lo usate usatelo nel modo corretto non rischiate di farvi del male perché comunque è sempre un trapano detto questo io la smetto vi ricordo se ancora non siete iscritti al canale di iscrivervi se non avete ancora commentato di commentare se non avete ancora messo mi piace di mettere mi piace se non avete e basta noi ci vediamo al prossimo video